ciao a tutti ragazzi oggi vi parlo della cosiddetta funzionalità di remotecast che è una funzionalità che è stata inserita recentemente che è una funzionalità assolutamente molto interessante anche se come vedremo al momento è parzialmente funzionante per quanto potrebbero essere le sue possibilità che cos'è la remotecast feature noi abbiamo la possibilità con il nostro hello box di poter invitare fino a 5 guest ospiti in remoto inviando direttamente dal nostro dispositivo come vedremo un link per partecipare alla diretta esattamente come si fa con zoom con teams eccetera e questi ospiti si potranno collegare con un loro dispositivo che può essere un pc un tablet o direttamente il telefonino e partecipare appunto alla nostra diretta molto semplicemente vado appunto nella tab che è questa qui dei due omini in rosso e per appunto andare in diretta ho necessità di innanzitutto direi di settare subito i due settaggi qui con mutecast audio by default che vuol dire che appena il nostro ospite ci raggiunge nella diretta il suo audio sia subito in muto per evitare appunto dei picchi dell'arsen eccetera quindi metterei subito questa poi anche diamo subito alla facoltà ai partecipanti di entrare nella diretta andiamo su invite qui vediamo una schermata dove ci sono cinque campi che noi potremmo riempire con le mail di cinque persone che vogliamo invitare oppure se vogliamo fare da noi gli inviti con magari altre piattaforme tipo messenger whatsapp telegram eccetera eccetera possiamo inviare anche il diciamo così un invito il link di invito direttamente prima mandandolo a noi stessi la mail arriverà sulla mail che abbiamo dato per la creazione dell'account su your live e così poi mandare appunto a queste persone che vogliamo invitare l'invito per partecipare una piccola parentesi per appunto ribadire alcune cose e sempre meglio consigliare chrome per quanto riguarda il browser di connessione per utenti android e windows e safari per quanto riguarda gli utenti apple non è possibile al momento un condividerlo schermo se per esempio si vuol fare una chiamata ad una persona che si collega con un computer quindi non può fare la condivisione schermo come si può fare su skype zoom eccetera e la problematica però legata al diciamo così al coinvolgimento di alcune persone per la diretta e purtroppo l'audio perché allo stato attuale le cose qui nel diciamo questo video che sto girando a inizio novembre 2022 magari questa cosa spero che venga modificata e migliorata successivamente e purtroppo l'audio non è possibile diciamo ridirezionarlo riposizionarli in modo che non ci siano rientri quindi reverberi eco eccetera eccetera quindi la modalità di invito di ospite remoto in questo momento non è perfetta e vi invito a non usarla perché sarà difficilissimo poter far comunicare anche se io sto producendo il mio show come sto facendo adesso effettivamente mi viene difficile comunicare con un'altra persona perché se io adesso mi metto le cuffie sento la mia voce in maniera molto molto ritardata e questo ovviamente mi impedirà di essere efficace quando parlo perché la voce ritardata propria voce ritardata crea ovviamente un disorientamento e quindi questo sarà mi renderà impossibile parlare con un'altra persona inoltre anche se sto producendo e facendo diciamo il regista per altri io non posso far parlare queste queste persone se c'è una persona qui di fronte a me magari che sta parlando deve connettersi e parlare con altre persone da remoto perché appunto non ci sono quelle modalità di eliminazione di eco eccetera eccetera questa è una cosa che deve essere migliorata dai ragazzi live ma c'è una funzionalità legata appunto al cosiddetto remote guest che è molto molto interessante cioè quella di poter utilizzare questo questa funzione possiamo utilizzare il nostro telefonino anche come camera aggiuntiva questo fino a cinque dispositivi dispositivo che può essere sono solo un telefonino ma anche un tablet e quindi questa è un'ottima ottima maniera di utilizzare appunto il servizio remote guest se vi è piaciuto questo video mettete mi piace iscrivetevi al canale e magari cliccate anche sulla campanella che vi darà la notifica per quando esce un nuovo video grazie ancora e a presto con nuovi tutorial per lo YOLOBOX PRO